Io mi chiamo Roberto e sono un ex corsista del CSF. Durante le lezioni che facevamo al CSF non solo ho acquisito la conoscenza di ciò che fosse l'attornio tradizionale dove la quale io svolgevo le mie mansioni con la vecchia azienda, però comunque ho acquisito magari sicurezza che forse prima non avevo, poi voglia di crescere, di capirne di più per poi decidere ad arrivare al punto di fare, diciamo così tra virgolette, un passo di qualità. Sono Maurizio Palmieri e sono l'amministratore di questa società, LabMec. Già sono diversi anni che mi occupo di formazione professionale, nello specifico con Tommaso Marrone, il CSF, e negli ultimi anni questi corsi professionalizzanti stanno funzionando tantissimo perché i ragazzi acquisiscono delle conoscenze e delle competenze per cui riescono a trovare un inserimento lavorativo molto molto facilmente. Nello specifico è successa una cosa molto carina nel penultimo corso di formazione che abbiamo fatto. C'era un ragazzo, Roberto, è qui, lui oggi con noi, e come una spina nel fianco si mise a dirmi che voleva provare a fare da sé, voleva provare a fare quello che facevano all'interno di quell'azienda. In quell'azienda rigeneravano cerchi in lega e oggi, praticamente, grazie alle politiche del CSF per i giovani, abbiamo fatto diventare questa azienda uno spin-off della LabMec. Quindi oggi esiste LabMec Cerchi e stiamo provando a lanciare questa nuova azienda. Devo ringraziare il CSF che mi ha dato questa possibilità di farmi crescere e non solo, anche all'azienda LabMec dove la quale oggi sviluppiamo questo lavoro. Il consiglio che do ai ragazzi ai giovani d'oggi è che se hanno un'idea, o qualcosa da voler portare avanti e farla crescere, è sempre magari meglio affidarsi a un buon corso di formazione, quindi di non mollare mai e di andare sempre avanti con le idee giuste.